La Stacca SRL nasce nel 1997 con l'obiettivo di rispondere alle richieste di un mercato in continua espansione. Una realtà nata dalla fusione di due aziende operanti nel settore dell'allestimento e dell'arredamento fin dagli anni 70, da cui eredita la tradizione e la professionalità. La nuova azienda ha da subito saputo sfruttare la sua esperienza proponendo un servizio di qualità capace di soddisfare le diverse e sempre maggiori aspettative dei clienti. Oggi la Stacca progetta e realizza in tutto il mondo soluzioni di allestimento per fiere, negozi, showroom, hotel, eventi e studi televisivi. Bellezza, è questa la parola chiave per leggere e interpretare ogni progetto di questa azienda. Una bellezza non fine a se stessa, ma che nasce da un preciso contesto culturale e artistico. Parlare della Stacca significa parlare dei suoi progetti, capaci di evidenziare, nei dettagli, nei materiali e nel design, professionalità e qualità. Un know-how a testimonianza e garanzia di un servizio puntuale nei tempi e di un risultato al di sopra di ogni standard. 5 milioni di euro di fatturato, 44 dipendenti, oltre 5.000 metri quadrati di superficie operativa, 20 unità di allestimento dislocate in tutto il territorio nazionale. Sono solo alcuni dei numeri che possono descrivere l'imponenza e la capacità organizzativa della Stacca. Il laboratorio di falegnameria ricopre una superficie di 1.000 metri quadrati. Dotato di macchinari all'avanguardia, permette all'azienda di gestire internamente l'intero processo produttivo con un controllo qualitativo durante tutte le fasi. Un aspetto fondamentale sancito anche dalla certificazione UNI ENI ISO 9001-2000. Gli uffici direzionali, gestionali, R&D e amministrativi si completano con la sala meeting, voluta per accogliere e formare non solo il personale interno, ma agli stessi clienti che ne sentono l'esigenza. Qui si trova anche l'ufficio tecnico, cuore e intelligenza dell'azienda, il luogo dove le idee e i desideri dei clienti prendono corpo in progetti personalizzati. La Stacca si presenta come un'azienda all'avanguardia e ospitale, dove la qualità e il rapporto personale con i propri clienti ne determinano la forza in un mercato difficile e competitivo. Il cliente, parte integrante del processo produttivo, è in grado di seguire passo dopo passo l'intera lavorazione con un pieno coinvolgimento nelle fasi che vanno dall'ideazione alla realizzazione e con la possibilità di apportare in ogni momento variazioni al prodotto o al costo finale. Un'eccellenza di questa azienda è l'ufficio tecnico, che ha fra i suoi partner preferenziali la società di progettazione Loha Progetti di Firenze, dell'architetto Luca Gori. La collaborazione intensa con l'architetto Gori è per la Stacca una conferma della qualità del lavoro svolto e una garanzia per i propri clienti. Luca Gori, laureatosi presso la Parsons School of Design di New York, rappresenta oggi un punto di riferimento in tutta Italia. Loha Progetti è in grado di affrontare e risolvere qualsiasi problematica connessa al processo di commercializzazione del negozio, a partire dalla progettazione e trasformazione dell'involucro edilizio fino allo studio dei dettagli. Tale impostazione permette un coordinamento delle risorse capace di impattare direttamente sul progetto in termini economici e di qualità. La fase di ideazione vive in parallelo con quella di preventivazione, che si avvale delle più moderne tecnologie informatiche. Tramite l'utilizzo del programma MobileCAD, un'applicazione derivante da AutoCAD, l'azienda è in grado di quantificare e disegnare preventivamente qualsiasi spazio espositivo. Tale strumento tridimensionale offre un'estrema precisione nella quantificazione dei costi, flessibilità nelle modifiche e completezza di informazioni. MobileCAD consente al cliente di costruire con l'azienda il proprio spazio in tempo reale e in modo preciso e sicuro. Qualità e rigore sono possibili anche grazie agli investimenti interni dedicati al reparto di ricerca e sviluppo materiali dell'azienda, i cui obiettivi sono capire, anticipare, innovare e fare tendenza. Solo dopo questa complessa fase di progettazione, che comprende anche sopralluoghi e verifiche legate agli impianti elettrici e alle normative vigenti, si passa alla fase realizzativa. Questa fase è affidata alle abili mani dei tecnici del laboratorio interno e degli allestitori esterni, dislocati in tutto il territorio nazionale. Il ruolo degli allestitori esterni, come quello dei fornitori di materiali, è fondamentale per la gestione di un cantiere. Tutti i partner stack vengono selezionati in base a criteri molto rigidi in termini di qualità, affidabilità, rispetto delle tempistiche, trasparenza, collaboratività. Il tutto in un giusto compromesso tra costi e performance. Una politica, questa, risultata vincente nello sviluppo dell'azienda, perché ha permesso la definizione di una rete tra eccellenze nel settore, capace di garantire qualità, differenziazione di servizio e di prodotto, oltre a un sostanziale abbattimento dei costi. L'attenzione al cliente e alle sue necessità hanno portato la stack a sviluppare dei servizi modulari sempre più personalizzati e personalizzabili. La stack dà ai propri clienti la possibilità di utilizzare un servizio completo che vada l'ideazione del progetto fino all'allestimento della location, oppure, se richiesto, quella di usufruire solo di alcune prestazioni. I servizi offerti sono diversificati e autonomi nella loro gestione e possono essere sintetizzati in progettazione design della soluzione di allestimento, preventivazione e realizzazione, ricerca e analisi materiali, logistica, direzione e cantieri, controllo qualità. Servizi aggiuntivi riguardano poi la consulenza marketing, la comunicazione, la grafica, il merchandising e il visual merchandising. Quest'ultima disciplina, particolarmente strategica per i punti vendita, si avvale di partnership dedicate, capaci di intervenire efficacemente sulla scelta e sul bilanciamento dell'assortimento. La stack ha reso l'allestimento protagonista dello spazio espositivo, legando la funzionalità alla sfera emotiva e rendendo gli allestimenti elementi attivi nella vendita. La stack è un'azienda solida e matura, che può contare su uomini, che grazie alla loro passione e dedizione sono capaci di trasformare i sogni in realtà. Un'azienda in grado di progettare e realizzare soluzioni di allestimento chiave in mano, per dare più emozionalità al vostro spazio e più valore al vostro business. Grazie a tutti.